Neosingle Neosingle dopo la rottura con l'imprenditore pugliese Raffaello Foglieri, arrestato e incriminato due settimane fa a New York per frode e riciclagge, Hannah Atway è atterrata a Roma insieme al regista Peter Segal e ai compagni di set Steve Carell e Dwayne Johnson per presentare la stampa Agente Smart Casino Totale. Ha scelto un abito rosso passione ai piedi tacchi altissimi a slanciare la figura snella. Apparentemente Serena non ha fatto trasparire nulla della vicenda che l'ha colpita. La pellicola racconta le avventure dell'agente pasticcione Maxwell Smart, un personaggio nato nel 1960 per ironizzare sulla guerra fredda. Ora lo fa sul post 11 settembre. E per tutti una valanga di risate. È difficile per una spia, lei è l'agente 99, per cui per una spia è difficile fidarsi della gente. E lei nella vita si fida degli altri? I trust fashion. Regarding, you know, I think as anyone, regarding trust, I think, you know, that's something that you must learn in life, and I'm very happy to be standing up here with a panel of gorgeous men, all of whom I would trust with my life. Except Steve. I have no confidence. My relationship with it, I like eccentric glamour. I think that it's, you know, being glamorous is very, very fun to try to achieve that look, but I think you can be careful. If you veer into too elegant, it can look a little boring, so I try to always throw in something unexpected, something very personal, something a little bit eccentric. It depends on the signora Hathaway, which will respond to the question. As, 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 as working back to a publicist, I would, I would say that Mrs. Hathaway will not be taking, and, and I do emphasize Mrs. Hathaway, will not be taking questions of that nature, thank you. all right. Grazie a tutti.